Salve, sono Marco Scarotico, il nerd gobbo con i capelli unti, sapete quello lì con la bandiera dell'Unione Sovietica alle spalle? Beh, più o meno, più o meno. E niente, volevo soltanto dirvi che per certi motivi che preferirei non specificare, a causa di possibili censure, ho deciso di creare un canale su Dailymotion, ammesso che si pronuncia così. In descrizione troverete l'indirizzo del mio nuovo canale. E ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi giorni difficili. Chi non ha colto lo scoprirà in seguito guardando il mio canale su Dailymotion. E ricordatevi, la parata va avanti, anche se il cane abbaia.